Insieme, per le donne, perché uscire dalla violenza non basta. Dopo le dolorose fasi emergenziali, il cammino è ancora lungo e ha come tappa imprescindibile la riconquista della propria autonomia. Quindi due le parole cardine, casa e lavoro. Ed è su queste necessità che si concentra Rete Libera Tutte, un accordo di collaborazione tra associazioni e organizzazioni dell'area Chieti-Pescara. Il sostegno alle donne vittime di violenza si concretizza così nel miglioramento dei livelli di autonomia abitativa e lavorativa. L'iniziativa rientra nel progetto Autonomia Sostantivo Femminile, promosso dall'Associazione LIAPS, Laboratorio e Innovazione di Pescara, in partnership con l'Associazione Novissi e in collaborazione con l'Associazione Ananche e con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo. Un aiuto concreto, si diceva, per esempio le associazioni imprenditoriali e di categoria mobiliteranno le imprese aderenti per offrire occasioni di inserimento lavorativo alle donne assistite dai centri antiviolenza. Le agenzie formative e per il lavoro si adopereranno per l'orientamento, per la formazione e per i tirocini per le donne, le quali verranno anche supportate nella ricerca di abitazioni in affitto adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare. L'obiettivo è stato proprio quello di supportarle non solo in un discorso di autonomia lavorativa ma anche in un discorso di autonomia abitativa, proprio per offrirle l'opportunità di essere accompagnate in un percorso di rinascita, di rivalutazione della propria vita e di, come devo dire, venire fuori, di supportare il loro cambiamento che per donne che appunto vengono da situazioni così critiche non è assolutamente facile fare tutto da sole. L'accordo di collaborazione che stiamo siglando oggi è il tassello finale proprio di questo progetto perché viene sottoscritto per dare continuità a questa attività e continuità chiaramente a supportare le donne nella ricerca delle proprie competenze, nella ricerca di un'abilitazione dignitosa per sé e per il proprio nucleo familiare per non lasciarle sole. Le donne hanno un vissuto molto traumatico, sono state per lungo tempo vessate, non hanno bisogno di tempo e di strumenti per acquisire anche un po' di sicurezza e di fiducia per potersi avventurare nella vita. L'associazione Ananche fa di solito un rapporto, mi sembra proprio nel mese di novembre, ogni anno, sui dati. non siamo ancora al mese di novembre ma immagino che comunque una situazione l'abbiate già fotografata. L'andamento è costante, poi diciamo che la risente anche tanto poi anche a volte delle fattori sociali perché è un fenomeno sociale, culturale e sociale.